Siamo venuti qui a vedere come procedono i lavori della rotonda di Ostia, di questa bellissima rotonda storica con il mosaico dello Zodiaco e devo dire che i lavori procedono a passo spedito. Ricordiamo che la ditta che è intervenuta e che ha vinto una regolare gara ha subito delle intimidazioni, ha avuto il coraggio di denunciare e oggi siamo qui con loro e continueremo a tornare per documentare l'avanzamento dei lavori, peraltro questo è un luogo simbolico quindi non permetteremo a nessuno di fermare questo cantiere.